Convalidati gli arresti ma scarcerati in attesa di giudizio i due disoccupati Cobas che nelle scorse ore sono stati ritenuti responsabili di una serie di reati per aver interrotto una seduta di consiglio comunale, aggredito i vigili urbani provocando loro lesioni ed oltraggiando forze dell'ordine ed amministratori. Così ha disposto il GIP di Taranto Martino Rosati al termine dell'interrogatorio di garanzia svoltosi in carcere. I due attivisti Cobas sono stati assistiti dall'avvocato Fausto Soggia. Ascoltiamo. Abbiamo anche qualche filmato che descrive le cose in maniera diversa anche in relazione alle ragioni che hanno spinto questi ragazzi a fare questa protesta. Il giudice nel provvedimento ha scritto che gli scontri con i vigili urbani sono avvenuti in un contesto di esasperazione provocato anche dalla mancanza di una vita dignitosa. All'esterno della casa circondariale di Taranto mentre era in corso l'interrogatorio hanno sostato in sit-in una decina di persone, parenti ed amici dei due detenuti. Grazie. 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 Grazie.